Ciao a tutti e benvenuti nella Marvel Wow, non Nao ma Wow. Allora, oggi abbiamo Wolverine All New Marvel Now numero 1, un nuovo inizio. Allora, come al solito qua si è scritto a nuova formula, 48 pagine, 2 ore e 90. Il titolo è la svolta e la prima parte, vabbè, cosa sembra 2 ore e 90, questa la covera, e vi faccio vedere la cover B, cioè quella anima. E anche quella C, che sarebbe quella metallizzata. Ok, qua Paul Cornel e Ryan Stigman, poi non so se pronuncio bene, quindi la voi incazzate con me. Qua come possiamo vedere la nuova cosa, cosa? Un Wolverine, la nuova copertina, con dei teschi strambi. No, vabbè, il titolo, i disegni sono spettacolari, vi faccio vedere un disegno. Ah, qua ci sarà un nuovo alleato a Wolverine, Superior Spider-Man. Qua, o come al solito, questi sbagliano sempre. Marvel Now, in realtà è Marvel. Qua come possiamo sapere? Fals. E i soliti cosi che aggiungono dopo il fumetto, per spiegarvi le cose messe in preferenza. Qua possiamo avere una bella cosa. Qua come possiamo sapere la cosa. Qua è dove dice il prossimo fumetto. E in questa storia, se la leggete, possiamo vedere che Wolverine può essere che intraprenderà la vita da criminale. Oppure no. E sarà alleato, come ho detto già prima, a Superior Spider-Man. E niente, non vi anticipo niente. Mannaghi, ho sto niente. E ci vediamo al prossimo. Grazie.